Vediamo oggi le linee del matrimonio. Le linee del matrimonio si trovano tra la linea del cuore e l'attaccatura del dito migno. Le linee del matrimonio sono linee parallele alle linee del cuore che nascono appunto dal bordo della mano e proseguono verso la zona centrale della mano. Le linee del matrimonio possono essere una o più e rappresentano sostanzialmente delle importanti relazioni sentimentali. Quindi possiamo averne più di una e possiamo anche averle per esempio spezzate o possiamo averle molto sottili, quasi poco visibili o anche che non partono dalla zona del bordo ma nascono più avanti o viceversa che si trovano solo accennate all'inizio del bordo. Quanto più linee del matrimonio abbiamo, tanto più possibilità di avere relazioni sentimentali importanti sono presenti. Si parte dando una datazione dall'inizio della linea del cuore e salendo in questa direzione più o meno fino verso i 50-60 anni. Quindi ogni zona ha un'età diversa. Osservate quante linee avete, se sono intere, spezzate, sottili o robuste e qual è la loro lunghezza. Più la linea è lunga e più rappresenta un periodo di appunto relazione sentimentale duraturo e quindi presuppongono anche una buona relazione con l'altra persona. Osservate e valutate.